Specializzato nel furto di identità, si spacciava per medico, bancario, psichiatra e addirittura prete. Alle spalle centinaia di truffe consumata in tutta Italia, altrettante le vittime degli innumerevoli raggiri. Stefano Ramunni, barese, 60enne, truffatore seriale, è stato adesso fermato nel centro storico di Arezzo in via Petrarca e denunciato. Di lui negli anni si erano occupate trasmissioni televisive nazionali. Il truffatore si è presentato in un tabacchi per comprare due grattevinci, ma i proprietari hanno notato un atteggiamento sospetto e soprattutto un volto visto da qualche parte. Mi ha chiesto dove posso fare delle fotocopie e poi c'è un'agenzia immobiliare qui nella zona. Ho detto già questa non è la zona di Sabato, mi sembra strano. E quindi l'ho indicato dove e è uscito. Esce il mio fratello e gli dico, ma ho visto questo qui, ho una faccia che l'ho vista da qualche parte, che c'è una cosa strana. Mi guardi su internet se trovi truffe, cose del genere. E lui mi ha messo truffatori, poi è apparso questo campione d'Italia, del mondo dei truffi, ho detto, secondo me è lui. Da qui l'ha chiamata alla polizia di Stato. Nel frattempo in copisteria il truffatore si era fatto fotocopiare una carta d'identità, ovviamente non sua. Gira verso la piazza, ha visto preciso una volante da 20 metri, con uno scialanzo si è girato indietro, è tornato indietro. Ho detto questo, c'è qualcosa di strano. Polizotti l'hanno visto, l'hanno inseguito, l'hanno fermato. Alla richiesta delle forze dell'ordine di identificarsi ha fornito false informazioni, per questo è scattato un approfondimento. Portato in questura è stata scoperta la sua vera identità, è stato così denunciato per false generalità e sostituzione di persona. Ramunni, condannato ed uscito dal carcere da pochi mesi, è inseguito dai processi nei tribunali di Mezza Italia. Adesso è stato fermato anche grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini. Penso che tutti dovrebbero fare così. Se tutti si facessero in questa maniera forse sarebbe tutti un po' meglio, no? Grazie.